C'è la benedizione di Artiglianelli a fare? Sì, sì. Dov'è che non la vede la chiesetta? Ah sì, sì, la fu. Quella era la scuola elementare. Quale? Quella lì dove c'è la chiesina. La sottola crea in altissima del modo di ascoltare il puno. Non del moon grande diiko è allo nitteno. C'è lui.